questa è una roba particolare, allora non lo so se rientri in questa statistica secondo la quale aspetta che crollate si sono emozionati a sentire questa cosa che caccio col destro lo avevamo già fatto una volta, un paio di settimane fa, abbiamo deciso di rifarlo ancora abbiamo deciso e cercheremo, ve lo promettiamo, di farlo diventare un appuntamento fisso questo è l'extra player, nuova puntata, seconda puntata di questa stagione come avete potuto subito vedere rispetto alla puntata inaugurale con Davide Bulsamini siamo in una location un po' diversa, non possiamo pensare di essere tutte le settimane in compagnia degli azzurri dal vivo lo faremo quando sarà possibile in una marcia d'avvicinamento ai campionati mondiali lo faremo anche con le azzurre naturalmente perché gli appuntamenti delle nostre nazionali sono tanti in corso di stagione però dicevamo campionati mondiali vado molto spedito, molto veloce e allora presento il nostro ospite in collegamento da Sassari saluto ospite dell'extra player Umberto Bronzo ciao Umberto ciao Matteo, grazie ciao a tutti sciogliti subito perché qua siamo a brilli e sciogli una puntata con Pulsa l'hai vista sicuramente, lo so che tu sei appassionato un pochino l'ho vista sì, soprattutto la parte che si parlava del rosso di Pablo mi ha fatto molto ridere anche perché poi pensavo che quella partita io mi ero fatto male e sarei stato il secondo rigorista quindi non c'era un secondo rigorista designato per quella partita quindi dietro la panchina pensavo madonna santa mi ha ricordato un po' me nel collo national del 18 sei arrivato subito dove dovevo arrivare sì 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 perché no c'è un episodio su questo allora devo anticipare subito un po' di scaletta perché abbiamo provato a preparare un pochettino di scaletta e nella rubrica o nello spazio del dicono di lui ci hanno raccontato di quell'episodio ai campionati europei di seconda divisione in semifinale cartellino blu quindi hai saltato anche la finale e poi c'è stato pure una specie di una celebrazione di possa mai che ti ha fatto un po' arrabbiare mi hanno detto su questa cosa beh diciamo che proprio in quel momento non è che ero proprio felicissimo di quello che aveva fatto perché ero in camera con lui e quindi aveva fatto aveva scritto su un bigliettino red card l'aveva messo sopra la mia testa sul letto e mi aveva fatto una foto di me che sono svegliato al letto con la scritta sopra red card quindi proprio in quel momento volevo buttare dalla finestra ma il problema è che le finestre erano quelle che si aprono solo a metà quindi non ci passava però hanno vinto lo stesso poi alla fine sì 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 meno male sono stati 60 minuti più brutti della mia la partita più brutta della mia vita da guardare in tribuna per una volta non stavo pensa guardavo anche l'arbitro che mi aveva espulso la partita prima lo guardavo malissimo ogni tanto quando quando lo guardavo avevo una rabbia dentro che non si poteva capire immagino immagino senti attualità un po' di attualità che avete combinato in coppa l'altro giorno una roba non me lo chiedete non me lo chiedete perché ancora non me lo sono spiegato quando Giovanni ha rubato palla io stavo rientrando perché avevo segnato il gol del pareggio anche lì che noi avevamo perso palla loro l'hanno riperso e quando stavo ritornando mi aveva passato la palla a Bruno quindi eravamo vicini quando abbiamo visto che ha rubato palla sembrava peccato che dall'immagine non si vede ci siamo noi due che ci prendiamo le teste a vicenda facciamo non è vero non è vero e poi boh sono state due partite assurde cioè da una parte e dall'altra non parziali da una parte parziali dall'altra una roba mai vista cioè sembra che una squadra stesse per prendere il sopravvento o un parziale dell'altra squadra o il caldo ma la mano moderna o difese che così così perché 36-36 39-38 ma secondo me è stato un mix delle due perché comunque abbiamo tenuto per entrambe le partite dei ritmi altissimi forse anche quello col fatto di qualche palla persa in più qualche difesa sbagliata in più comunque loro avevano questi due ragazzi e tutte che soprattutto il terzino sinistro un gran terzino ci ha fatto una seconda partita anche la prima ma la seconda li ha tenuti a galla da solo e ci abbiamo provato in tutti i modi ma era infermabile quindi un mix delle due bella bella è stata emozionante noi l'abbiamo seguita con Sabrina Alessio che voglio subito ringraziare perché mi dà una grande mano sul tirare fuori le domande di questo podcast anzi ti dico già che una buona parte di quelle che ti farò ci ha lavorato ci ha lavorato nella giornata di ieri e niente insomma Umberto allora attualità poi ne parliamo ancora parliamo un pochettino di campionato poi continuiamo a a chiacchierare insieme però sei nato a Scandiano tu sei siciliano di Siracusa ma sei nato a Scandiano 29 dicembre 2000 giusto? giusto perché Scandiano? perché papà giocava a rubiera Scandiano è Reggio Emilia e quindi l'ospedale più vicino era Scandiano quindi sono l'unico della famiglia che c'è il codice fiscale con i tre numeri diversi di tutta la famiglia sono l'unico perché è nato lì perché lui si è trasferito lì nel 97 e poi nel 99 i miei si sono sposati e nel 2000 sono nato sono nato io lì a Scandiano quindi le prime immagini su un campo da palla a mano sono al palazetto di rubiera ancora oggi e quando quest'anno soprattutto gli ultimi anni da quando rubiera è salito fa sempre uno strano effetto perché proprio mi ricordo alcune cose quindi proprio le foto che ho a casa da piccolo con papà sono quel palazzetto lì quindi è veramente bello tutte le persone si ricordano di me ma io onestamente non mi ricordo di loro tutti mi dicono ah ci sono anche foto di papà lì al palazzetto quindi è una cosa bella tu sei nato in un luogo sei siciliano ma sei nato in un luogo per la palla a mano non potevi fare altro che giocare a palla a mano ce l'avevi proprio il DNA sì avevo proprio lì non potevo non potevo sbagliare ci ho provato a sbagliare però poi appena mi hanno messo su un campo da palla a mano i primi allenatori tra Fusina Viscovic che c'erano ai tempi a Siravusa hanno detto no no questo lascio lascio giocare a palla a mano che se la cava è andata è andata bene direi è andata bene è andata bene è andata bene sta andando bene anzi perché ne hai ne hai ancora un bel po' da fare tra cui anche soprattutto direi questo questo mondiale che dai sono sono continuano a essere secondo me settimane giorni di avvicinamento particolari speciali a prescindere che ci si trovi a a quattro mesi ancora quindi comunque c'è ancora da aspettare poi vi ritroverete a novembre perché comunque c'è ci sono le due partite di qualificazione europea insomma è un bel percorso sì sì diciamo che penso sia stata una delle poche volte in cui ho seguito veramente appassionatamente un sorteggio di un qualsiasi sport cioè ero lì davanti al 50 pollici dicevo dai oh sono seconda fascia giustamente come è giusto che sia nonostante siamo seconda fascia siamo stati l'ultima squadra estratta perché ci volevano far penare fino alla fine speravo nel girone speravo nel girone in Croazia però va bene anche la la Danimarca di alto per un fatto di vicinanza che poteva verranno persone però per un fatto di vicinanza poteva essere ancora ancora meglio per noi però andare a giocare contro i campioni di tutto diciamo che non è male ci proveremo però vediamo come andrà soprattutto a partita contro di loro sarà molto emozionante perché poi si giocherà lì da loro in casa loro ci saranno tra i 10-20 mila persone adesso la capienza esatta del palazzetto non lo so però sarà sicuramente bellissimo una marea rossa non so se nel basket giocare contro il team USA è il sogno di tutti tutti quelli che non ci possono giocare è un parallelismo valido la Francia l'abbiamo giocata adesso tocca la Danimarca giochiamo con la Spagna giochiamo con la Spagna europeo ci manca la Germania e poi le prime quattro le abbiamo fatte tutte le abbiamo un piano le facciamo tutte di April sì 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 di April sicuramente e ascolta dicevamo Scandiano ripercorrendo un po' il tuo così il tuo cammino tu hai frequentato l'istituto tecnico nautico che si fa l'istituto tecnico nautico perché allora io in realtà ovviamente quando poi inizi inizi la la scuola così superiore ma a Siracusa hai creato questo? sì sì ho iniziato a Siracusa poi quando mi sono trasferito a Pasano ho finito gli studi a Brindisi lì era tutto nato dal fatto che essendo Siracusa una città marittima con molte occasioni di lavoro poi c'era anche una mezza idea un po' un po' passerella con mio padre c'era lì l'idea di poi imbarcarmi sulle navi comunque diventare capitano di coperta e diciamo che ancora oggi quell'istituto lì è il primo che ti permette appena uscito subito dalla scuola di imbarcarti cioè basta che vai ad aprire il libretto marittimo in Capitania di Porto e al 99% qualsiasi che sia una nave mercantile o passeggeri come fosse se i traghetti ti prendono perché è proprio una cosa loro perché per farti fare poi carriera cioè entri come allievo ufficiale perché uscendo da quella scuola sei stato allievo ufficiale di coperta e loro piano piano ti fanno scalare i ranghi terzo secondo primo e poi capitano quindi l'idea inizialmente era quello lì comunque non spostarmi tanto da casa avendo la possibilità di avere un porto marittimo di tutto rispetto a Siracusa in più la possibilità non solo quello ma anche avendo la Capitania di Porto tutti gli attracchi perché Siracusa con la zona industriale funzionava quindi era quella l'idea iniziale poi il problema è che palla a mano ci sapevo giocare quindi piano piano mi è rimasta questa mi rimane il fatto del perché del nautico e il perché del nautico era questo qui inizialmente e alla fine poi l'ultimo anno non ha senso cambiare al quinto superiore la scuola e quindi con un po' di sacrifici perché era un'ora e mezza all'andato un'ora e mezza al ritorno alla Fasano metti gli allenamenti a volte uscivo alle due e tornavo a casa del quattro ce l'ho fatto e mi sono laureato con un bellissimo 75 che reputo ottimo per le mie per la mia volontà di studiare ma quindi tutta questa passione per il mare questa cosa e a questo punto cioè in termini devo fare un collegamento storico Dunkerque Dunkerque sarebbe diciamo no Dunkerque ci sta però non è andata no non è andata non è andata per diversi fattori ma non è andata però ci stava anche lì il mare quindi alla fine avevo aggeccato anche per quella cosa sono i gradi sono i gradi di differenza che forse sono diciamo anche un po' la luce solare un po' la differenza visto che già da settembre il sole forse l'ho visto mezza volta una domenica mattina però è stata comunque un'esperienza che mi ha fatto crescere che mi ha fatto capire determinate cose sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista umano che mi porto dietro però giustamente non lo reputo fallimento lo reputo presa di coscienza di quello che si può fare e che non si può fare è un'esperienza secondo me che andava fatta perché alla fine quando ti chiama comunque una squadra di un certo tipo di un certo livello devi farla poi non è andato come è andato ma anzi non la rimpiango però sicuramente mi ha dato qualcosa in più cioè esco comunque nonostante siano stati solo sei mesi esco comunque con un bagaglio umano più ampio ma è una cosa che ti ha scottato a tal punto che non la riprenderesti più in considerazione non Dancherco ovviamente un'esperienza all'estero magari per il giocatore che è Umberto Brozzo oggi nel senso che è l'ala destra della nazionale italiana che va ai campionati mondiali o insomma poi ognuno trova la sua dimensione io sono sicuro sei tornato a Sassari quindi sono sicuro che Sassari sia la tua dimensione cioè ti piace stare a Sassari ecco altrimenti non ci saresti tornato sì è stato poi il tornare a Sassari è stato poi come ti ho sempre detto è stato proprio un susseguirsi di eventi che ha portato a tornare qua onestamente non è che mi ha scottato così tanto da non riprovarci è che proprio non lo voglio fare più cioè l'ho fatto la mia esperienza ho capito ho capito cosa si prova nel senso di dire no non lo faccio più che va bene così perché alla fine giocare a palla a mano può arrivare fino ad una certa età e non abbiamo gli stipendi dai calciatori da dire vabbè lo fai fino a 35-40 anni tanto metti da parte i soldi e poi i campi di rendita tutta la vita e infatti per quello sto studiando e il mio obiettivo è finché mi diverto e finché mi piace giocare gioco appena inizio a vedere dentro di me che non mi diverto che non mi diverto più e smetto senza nessun tipo di problema tanto le mie esperienze l'ho fatta la mia vita l'ho fatta se penso che ho passato i più anni su un campo da palla a mano che nella vita in generale comunque è tanto perché ho iniziato a 7-8 anni ne ho 24 e sono comunque tanti anni che gioco quindi quando vedrò che quella la passione però la passione ci sarà sempre però quando quel divertimento inizierà a mancare perché è iniziato tutto come un divertimento non ho problemi a dire stop divertimento vuol dire sicuramente amicizia chi sono i TB3 si chiamano così TB3 si dice così ah sì 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 erano è iniziato tutto dai tempi di Siena eravamo io Pavani e Pasini perché stavamo a Siena stavamo sempre insieme soprattutto era l'anno del covid quindi passavamo molto tempo insieme c'era le restrizioni tutto quindi si era fatto molto gruppo soprattutto con loro che poi avevamo vinto anche l'europeo due anni prima e quindi ce lo portavamo dietro perché ce lo siamo portati dietro perché quando a volte uscivamo la sera eravamo sempre noi tre o non fare qualcosa eravamo sempre noi tre ora uno è ancora qua l'ho portato a Sassari l'altro adesso sta recuperando che anzi gli mando un saluto perché l'anno scorso mi sarebbe avuto un brutto infortunio però è sempre è sempre nel mio cuore ci sentiamo quindi l'altro qui invece fa la sua vita è diventato diventato un super un super portiere come è stato ha fatto due grandi prestazioni anche anche settimana scorsa contro il 2 de la quindi è bello riaverlo qua anzi quando lo è venuto mi aveva proprio cioè ci siamo proprio sentiti vieni a Sassari ti divertirai anche per il tipo di persona che sei vieni ti diverti e vedrai che starei bene e così infatti e così infatti è ma dal nucleo dei tb3 ci è arrivato pure un non è un gossip però ci hanno detto che ti rilassi ad andare a buttare la spazzatura ma è vera questa cosa è una cosa che ti rilassa sì sì con le restrizioni sì era bellissimo uscivo la sera c'era la nebbiolina la nebbiolina e andavo infatti avevo la mia passeggiata stavo al telefono andavo a buttare la spazzatura e rientravo anche qui a Sassari perché adesso ma la sei portata dietro questa cosa anche adesso sì sì perché a Sassari dobbiamo lasciare vengono a fare la raccolta differenziata quindi facciamo la differenziata e dobbiamo lasciare il cassonetto fuori il cestino fuori e il cestino solo che c'è una salita ripida c'è tipo 50 metri per andare al cancello dove lasciarla fuori e quindi la sera dopo l'allenamento piano piano mi metto lì faccio una passeggiata con la torcia perché la strada non è illuminata ogni tanto devo stare attento a non cadere però sì sì è rilassante lo trovo rilassante è una passeggiatina posso fare la passeggiatina sul lungomare di solito ero abituato a fare la passeggiatina sul lungomare di Ortigia invece adesso la faccio sulle campagne sard particolare devo dire ringraziamo i tb3 in particolare Pippo Pasidi per questo questo sicuro era lui per forza sapevo che era lui su questa cosa perché quell'anno la spazzatura la andava a buttare e diceva no no ragazzi vado io almeno scendevo Pava difficilmente perché con lui difficilmente abbiamo avuto casa insieme però con Pippo abbiamo vissuto sei mesi insieme quindi quindi sì diceva no no vado io vado io ma con chi sei a Sassari adesso? con Aldini coppia che scuola sì 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 secondo e terzo di difesa insieme anche a casa così per sicurezza non sbagliamo grande Aldo sì sì ormai ormai anche la madre lo chiama Aldo le abbiamo cambiato proprio le abbiamo proprio cambiato il nome i genitori anche Aldo quando vengono in trasferta Aldo ormai deve solo andare alla nagra perché solo lì gli è rimasto che è Rigo non lo chiama penso più nessuno Rigo e allora salutiamo anche Aldo è qua sul divano che sta ascoltando ah ecco ma fa solo un saluto è timido non gli piacciono tanto no 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 è più un guerriero il soldato è stato soprannominato il soldato è vero ma servono anche quelli anzi sì 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 giocatore Mancino abbiamo apprezzato tantissimo le tue doti da Mancino è una roba che non lo so ti fa sentire figo o ti ha creato qualche sai che sui Mancini c'è tutta una letteratura si dice all'inizio sì all'inizio sì all'inizio non difendono non fanno sono delle fighette non so se si può dire ah questo specifico nella palla a mano cioè sì 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 però poi alla fine al fine è solo che al posto di fare la destra usi la sinistra è un vantaggio perché fino a poco tempo fa poche squadre ne avevano adesso addirittura ci sono squadre che giocano con tre Mancini quindi ormai si è diventata quasi una una normalità però sì mi sento un po' diverso anche se di piedi su destro cioè è una cosa non mi spiego però è così questa è una roba particolare allora non lo so se rientri in questa statistica secondo la quale aspetta che crollatore si sono emozionati a sentire questa cosa che caccio col destro c'è stato un piccolo rumore però possiamo andare avanti la teniamo questa la teniamo non tagliamo niente fa parte della diretta fa parte della diretta è il bello della diretta che non è diretta quando lo pubblicheremo ma fa parte del gioco dicevo la statistica è uno studio secondo il quale i laureati Mancini diventano più ricchi del 26% rispetto ai coetanei destre di mano io lo spero ci tiene pure nella mano poi si dice che siano anche più intelligenti questo non lo so però su questo ho dei dubbi però spero sulla prima sulla prima ci spero tantissimo sulla seconda ho dei dubbi parecchi dubbi vediamo ma poi ce lo ce lo saprai confermare sì sì torniamo alla palla a mano Conversano raccontami un po' della notte di Conversano che per te è stata una notte super speciale perché hai giocato una partita stratosferica hai giocato bene pure a Podgoritz questo va detto però la notte di Conversano poi con le lacrime sei scoppiato in lacrime a Conversano buono lo so ancora oggi a volte la riguardo perché non me ne è capace il mio riguardo non ha senso non ha senso quello che ho fatto ero secondo me in tale stato mentale c'è stato un momento in cui ho detto vabbè ora tiro quella qualunque a giro tanto come sta andando infatti c'è stato un momento in cui tiravo il segno e ho detto vabbè ho detto vado poi bellissimo perché cosa ti hanno detto che poi c'è una foto di Luigi Canu qua dove vengono a consolarti tra virgolette a fine partita immagino che fosse c'è erano lacrime di gioia che ti dicevano ho visto Pugliese c'erano meglio quello di Pugliese me l'ha detto in Pugliese a parte del gioco di parole è meglio che non lo dico perché poi i Pugliesi lo capiscono però no è bravo è troppo vulgare ma forse no no e fa ma guaglio quando sei stato forte tipo una cosa in genere cioè quindi stavo era un mix tra lacrime e risata perché quando col fatto che abbiamo giocato anche insieme quando ero a Pasano c'erano delle battute che facevamo in trasferta in Pugliese mi ha fatto ridere poi più che consolarmi erano lì per dirmi bravo perché comunque era stata una parte di anno difficile per me quella partita è stata un po' la liberazione di tutto stress e cose che avevo accumulato in quel periodo poi quindi è stata proprio una liberazione perché ho detto mamma che partita cioè vabbè però farlo in una partita così del genere importante davanti a 4.000 persone in un palazzetto del genere era stato proprio cioè me ne sono reso conto prima del volevo scappare l'agra già prima del tiro franco e ho detto no aspetto aspetto almeno che para o che tira fuori poi lì poi sono scoppiato non capivo più cioè non capivo più nulla non mi rendevo conto di nulla perché qualsiasi persona mi veniva a dire qualcosa cioè pensavo ma l'ho fatta grossa cioè l'ho fatta veramente grossa e così è stato effettivamente grande serata grande partita noi ogni tanto anche noi in ufficio la riguardiamo ogni tanto perché in federazione perché effettivamente veramente ma assurdo poi anche i messaggi che mi sono arrivati c'era il telefono boh non ho mai visto così tante neanche quando faccio il compleanno c'era così tanti messaggi qual è stato il più bello? il pallonetto che ho pensato voglio facciare il cucchiaio alla Totti no no non il gol a parte il gol tra i messaggi tra i messaggi ma di messaggi ce ne sono stati ce ne sono stati parecchi cioè da mio padre a chi comunque quello più divertente è stato sicuramente quello di Giorgio mi fa adesso li devo alzare adesso devo mettere la clausola al contratto la partita se no te ne arrivi di nuovo ti rientra nella statistica dei Mancini però tornando a prima anche se Cono senza laurea a questo punto sì però il problema è che la clausola non la prenderei io ce ne prenderebbe lui quindi era solo un vantaggio a favore suo a favore suo no il più divertente è stato quello e poi vabbè c'è quello dei messaggi della mia famiglia poi quando ho visto il gruppo della famiglia che stavamo vedendo tutti la partita è stato è stato quello poi tutto veramente un sacco di persone anche al palazzetto che che ne avevano fatto capire che avevo fatto qualcosa di speciale ma non solo per me cioè proprio a livello per il fatto della partita in sé comunque poi siamo andati a Podgorica che avevamo sei gol di sei gol di vantaggio sì che comunque non sai mai cosa può succedere però erano comunque sei gol ed erano sei gol pesanti quindi avevamo fatto veramente tutti una gran partita cioè poi io onestamente da giocatore penso boh ma perché non lasciavano fuori mano tirare cioè io arrivato a un certo punto ho detto le due parti chiudevano sempre vabbè forse era così è stato divertente anche uno scambio che ho avuto con i Koscivic con cui abbiamo giocato a Siena che era Montenegrino di cui è molto amico stretto di Simic e quando mi ha chiamato mi scrive fa eh cavolo l'hai ridotto bene io non pensavo e quindi è stato proprio è stata una settimana proprio ma già da quando sono arrivato a conversare ne avevamo parlato e scherzavamo sul fatto che almeno per una volta erano il pubblico dalla mia parte visto che è sempre contro sempre contro a maggior ragione è stato proprio tutta la settimana una bellissima settimana tutto il per una volta eravamo della squadra di casa l'hai detto pure dopo la partita sì 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 eh sì perché è una cosa è una cosa strana è un pubblico che sa farsi sentire quando deve fare conversare si può sentire per il compito sì sì quindi invece adesso si va a Fasano che tra l'altro è stato il tuo pubblico speriamo di farne un'altra partita così se questa la se questa la cosa di giocare in Puglia mettiamola tutte in Puglia arrivato a sto punto almeno no però sì anche lì sarà bello il pubblico di Fasano lo conosco ancora meglio non solo perché ci ha giocato ma anche per la finale Scudetto di due anni fa è un pubblico che se si vuole far sentire se vuole dare il cento per cento lo dà come esattamente come conversano poi nel nuovo Palazzetto per loro sarà sicuramente un'emozione in più quindi sicuramente saranno alle saranno super elettrizzati come lo siamo noi perché ancora il nuovo Palazzetto non ci ha giocato quindi penso che giocherò prima con la Nazionale che che col Sassari quindi l'anno scorso quando sei tornato Sassari aveva già giocato sì aveva già giocato all'andata quindi non ci ho ancora messo piene quindi non l'ho ancora visto dal vivo sarà anche bello anche quello quindi la prima volta sarà il 10 penso di sicurare adesso il calendario noi quando giochiamo con Fasano non lo so però sarà o ravvicinato o comunque sì sarà la prima ok ok beh sarà speriamo che tu possa ricordartela che ce la farai ricordare speriamo di sì di nuovo che ce la facciate ricordare in chiave positiva anche a noi noi con l'extra player vogliamo conoscervi meglio conoscere meglio i protagonisti della palla a mano italiana poi c'è sempre questa questa pazza idea eh di cedervi anche un po' lo scettro quando quando saremo eh a Earningo insomma in avvicinamento ecco per raccontare un pochettino questa questa esperienza storica della Nazionale ai Mondiali però un pochettino di attualità la tocchiamo abbiamo parlato della Coppa all'inizio chiudiamo allora parlando del campionato che campionato stai vedendo e soprattutto campionato per Sassari perché l'anno scorso è stata una stagione un po' ecco così così no per Sassari usciti dai playoff è vero che c'è grande concorrenza però credo che Sassari sia sempre una squadra una società ambiziosa che punti ad arrivare nelle prime quattro secondo me se chiedi a qualsiasi a qualsiasi giocatore che c'è l'anno scorso a Sassari che c'è quest'anno se può prendere l'anno scorso e metterlo nel cestino del computer definitivamente lo farebbe in un istante quest'anno onestamente mi sembra un campionato molto più equilibrato rispetto all'anno scorso perché alcune squadre si sono rinforzate molto altre hanno cambiato poco altre hanno perso alcuni giocatori importanti quindi sono state solo due tre giornate quindi sono stati dei risultati anche abbastanza alcuni ovvi altri invece che tipo penso alla vittoria di Pressano in casa contro Pressanone Siracusa si è rinforzata molto 3 su 3 quindi anche loro quest'anno soprattutto penso che puntino a vincere qualcosa perché gli sforzi economici da quello che so perché ovviamente poi quando parlo quando torno a casa a volte ci rivediamo con i vecchi compagni con gli amici perché sono cresciuto con loro gli sforzi economici quest'anno l'hanno fatto hanno fatto per dare all'allenatore una grande squadra quindi penso che che puntino in grande per me non è la favorita per me la favorita è Conversano però perché ha fatto un super un super campagna acquisti e poi il resto sono tutte sono tutte lì c'è un campionato veramente dove puoi vincere e perdere con chiunque ancora più dell'anno scorso e tre giornate secondo me sono troppo poche anche perché ripeto ci sono squadre che hanno cambiato tanto quindi devono trovare ancora i meccanismi e squadre che hanno cambiato di meno che possono avere un vantaggio iniziale e consolidare quel vantaggio quindi bisogna bisogna essere attenti a tutto poi adesso noi abbiamo una settimana molto ma molto intensa perché due partite settimana scorsa adesso andiamo a Pressano martedì recuperiamo la partita con Conversano a Conversano e poi sabato in casa con Siracusa quindi già un trittico un crocevia importante quindi già bisogna essere attenti soprattutto soprattutto perché poi la stanchezza si inizierà a far sentire comunque giocheremo cinque partite in due settimane se consideriamo anche le due di Coppa quindi dobbiamo essere bravi con la testa soprattutto perché poi quando le gambe vengono meno è la testa che deve pensare un po' di più però è un campionato che vedo veramente veramente sono i singoli che fanno la differenza e un attimo anche l'esperienza in più che fa la differenza quindi bisogna stare veramente attenti perché secondo me quest'anno fino alla fine forse mi ricorda un po' il campionato di due anni fa secondo me mi ricorderà un po' il campionato di due anni fa dove ci saranno quelle 6-7 squadre che fino fino alle ultime due giornate possono entrare i playoff eh sì poi con quattro posti abbiamo visto che c'è sempre qualche illustre esclusa illustre ecco diciamo quindi ha maggior ragione quest'anno che col fatto del secondo me non è un fatto da sottovalutare il mese di pausa rispetto agli altri anni anche per il fatto del mondiale questa è una bella incognita effettivamente che è una novità del calendario è una cosa con cui non avevamo mai fatto i conti come fortunatamente ci facciamo i conti direi sì sì assolutamente secondo me questo può cambiare veramente veramente tanto perché io sono l'idea che volete lunga ancora perché gara 3 addirittura sarebbe l'11 giugno quindi figure sì quindi secondo me è veramente veramente importante soprattutto in quel mese capire poi come arrivano le scuole perché secondo me è un altro campionato cioè rinizio un altro campionato perché c'è una pausa per i giocatori che non saranno al mondiale sarà veramente lunga perché finisci il 15 finisci il 15 dicembre e poi rinizio i primi di febbraio cioè un mese e mezzo che può segnare tanto che può anche cambiare a volte alcune carte in tavola e quindi bisogna stare assolutamente attenti poi al rientro perché poi c'hai la Coppa Italia che ci arrivi dopo questi due mesi quindi è molto interessante questo quest'anno assolutamente noi ce lo godremo insieme ma ci godremo soprattutto il mondiale perché è diventata ovviamente come è giusto che sia una specie di ossessione ma è giusto è giusto va bene grazie Umberto grazie a voi per l'invito è divertente fare podcast è divertente facci uno spot per l'extra player già che ci sei a questo punto ci fanno per copyright perché se no viene da pensare all'altro podcast del Little Basket e ci fanno per copyright ah ok va bene però noi l'extra player ci siamo chiamati quindi comunque l'extra player direi più extra che player hai visto tu sei il nostro lo spot ok lo spot è più extra che player bravo sei un pubblicitario nato sì questo ce l'ho queste cose ce l'ho qualche cavolate in più per non dire un'altra parola ce l'ho anzi di solito di solito so più cavolate cose sedie che di tu è giusto sei giovane fai bene grazie umberto bronzo grazie a voi continuate a seguirci sul canale youtube della federazione poi con tutte le declinazioni varie sui social noi tra un po' rimettiamo a posto la mensola che è crollata prima sono emozionato sono emozionato sono emozionato ciao ciao